No, oggi ha fatto allenamento e è a posto, lo riuscì. Il mio scelto è più grande? Sì, sì. E su Campagnaro? Campagnaro oggi è stato fermo, lo valutiamo domani, sarà molto difficile, penso. In questo momento è avvantaggiato il Bettella perché ha fatto sempre tutti gli allenamenti e perciò giocherà il Bettella. Ma è un ragazzo molto intelligente, è anche freddo su certe situazioni, perciò sono sicuro che lui scenderà in campo fra la sua partita. Ha tutte le qualità per far bene, la fiducia c'è da parte di tutti, non vedo problemi da questo punto di vista. Io da questo punto sono molto tranquillo sul ragazzo. È molto maturo? Sì, è un ragazzo molto maturo, che durante gli allenamenti non ha mai mollato, si è sempre comportato bene, si è sempre impegnato al 101%. Quando uno fa così sono sicuro che è tranquillo, va in campo tranquillo, perché sa che dà il massimo, ha fatto di tutto per trovarsi in questa situazione per approfittare del momento, perché è anche per lui un momento da approfittare. È difficile adesso dire quanti punti servono, secondo me 54-55 dovrebbero bastare, penso di sì. Però è chiaro che se tu dovessi vincere il lunedì, metti una grande ipoteca sui play-off. Siamo consapevoli di cosa andiamo incontro, perché adesso sono quattro partite e il nostro obiettivo principale è quello di arrivare in play-off, perché sarebbe per noi una grande beffa se non riusciamo a arrivarsi, perché dopo aver fatto un anno sempre nelle prime posizioni e non arrivarsi sarebbe per noi, insomma, non sarebbe una bella cosa, diciamolo francamente. Sapete, è tutto proprio a minimi particolari. Quando si è cupi tristi ci vuole anche, ci vuole allegria, ci vuole spensare attezza, ci vuole altre cose. Non sempre si può essere cupi e tristi e pensare sempre a certe cose, perciò il significato della cena è stato questo, ma l'ho pagata molto volentieri e spero di pagarne ancora. Magari un'importanza è più in là. Eh, magari sì, però abbiamo tutto nelle nostre mani. Abbiamo fatto un anno di grandi sacrifici, adesso abbiamo quattro partiti e tutto sulle nostre mani, perciò è quello che è la cosa più importante adesso da qui pensare. E se le parla...